Tolotolo, nuovo film di Checco Zalone, parla di un grosso problema che affligge l'Italia e gli italiani. Questo è un problema che va affrontato, che è stato affrontato in questo film, che è il problema dei meridionali. C'è la solita meridionanza di Checco Zalone che si è vista in altri film e da sola fa ridere, ma se ci aggiungi anche l'extracomunitario, allora diciamo che per gli italiani la cosa inizia a essere un po' pesante da digerire, quasi pesante come la Nutella con le nocciole non italiane. Fermi, 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 non ve ne andate, non ve ne andate, stavo scherzando, quello che ho detto nei primi minuti del video ovviamente era ironico, stavo ironizzando, stavo cercando di fare quello che Checco Zalone ha fatto nel video immigrato. Il video immigrato è un videoclip, un video musicale che però è stato utilizzato per lanciare il film Tolotolo, di cui parliamo adesso. Però appunto non è un vero trailer del film in cui si capisce cosa succede in Tolotolo, è un videoclip, che appunto il titolo della canzone è Immigrato, che ci mostra come il tipico italiano medio, sempre interpretato da Checco Zalone, affronta il fenomeno dell'immigrazione nel piccolissimo contesto urbano delle nostre città, quindi nel vedere l'immigrato che cerca di rendersi utile portando il carrello della spesa, facendo benzina, chiedendo spiccioli, quindi c'è questo rapporto. Mentre nel film Tolotolo, tutto questo fondamentalmente non c'è, non c'è il punto di vista del personaggio di Checco Zalone, quindi dell'italiano medio di Checco Zalone, in Italia con l'immigrato. Quello c'è solo nel videoclip immigrato, nel film c'è totalmente qualcos'altro. E questo può essere uno dei tantissimi motivi per cui Tolotolo sta causando disappunto per chi lo va a vedere, che va a vedere un film ma è un film diverso da quello che si aspettava di vedere. Al di là del fatto che è vero, non è il film di Checco Zalone che fa più ridere. Io per primo ho apprezzato i film di Checco Zalone precedenti in modo graduale, nel senso che Cado dalle Nubi è stato quello che ho apprezzato di meno, proprio perché si vedeva Checco Zalone che interpretava il classico stereotipo dell'italiano del sud che veniva al nord, e c'erano tutte queste battutine nord-sud belle perché le faceva Checco Zalone nel suo modo, però trite e ritrite di anni non mi era piaciuto molto. Poi c'è stato Cado dalle Nubi invece dove si affrontava la tematica di questo eterno personaggio di Checco Zalone, cioè l'italiano medio ignorante che affronta quello che è l'innamoramento verso una persona che ha una cultura totalmente diversa dalla propria, e quello mi era piaciuto molto. Poi c'è stato Sole a Catinelle dove c'era questo rapporto padre-figlio che mi è piaciuto ancora di più, e infine c'è stato Quo Vado dove appunto questo personaggio di Checco Zalone va, a parer mio, riassumere anche i film precedenti perché comunque si parla di convivenza tra culture diverse, se si parla comunque di cultura tipicamente italiana, anche tipicamente italiana del sud, quindi questa calorosità, questo sangue caldo che hanno gli italiani in generale, gli italiani del sud, questo grande cuore che hanno rispetto all'estremo nord, Checco va in Scandinavia, si innamora di questa ragazza che vive tra i fiordi, e quindi c'è tutto questo rapporto, questo gioco tra nord e sud estremizzato che si è visto nel primo film, c'è il fatto che si innamori di una ragazza totalmente diversa dalla sua cultura e l'abbiamo visto nel secondo film, c'è il rapporto tra Checco e i figli della sua innamorata, l'abbiamo visto nel terzo film, quindi diciamo che Quo Vado racchiude un po' l'essenza dei film precedenti di Checco Zalone. Mi aspettavo che Tolo Tolo, che comunque è arrivato come un fulmine a ciel sereno dopo quattro anni dall'ultimo film di Checco Zalone, mi aspettavo che Tolo Tolo, anche questo, fosse un gradino in più nel mio gradimento di film di Checco Zalone. Invece no, si è scesi di un gradino, anche di un gradino e mezzo. Perché questo? Innanzitutto perché questo film è stato il primo film diretto da Checco Zalone, a differenza degli altri film che sono stati sempre diretti da Gennaro Nunziante, che appunto faceva parte della coppia Nunziante-Zalone, che ha portato al cinema tutti i film precedenti, di cui tutti sappiamo il successo che hanno avuto. Questo film ha avuto, sta avendo un enorme successo al botteghino, proprio penso per la curiosità che, per cui la gente è andata al cinema, proprio per la curiosità che il videoclip immigrato ha portato tra la gente. Ma il film è un'altra cosa, il film parla di questo imprenditore, fa delle scelte di merda, praticamente porta un brand destinato a fallire. Mi piace dirlo perché anche mentre sogna durante il film, pensa più o meno di rifare la stessa cosa, che per una persona normale che lo vede è chiaramente un errore imprenditoriale, ma lui ci crede. Ci crede tantissimo perché lui vuole portare il futuro ovunque, però non sempre dove si vuole portare una certa cosa la gente è pronta. Io per esempio vorrei tanto aprire una fumetteria nel paese dove vivo, ma chiuderei dopo un mese come ha fatto Checco Zalone. Quindi questo film mi ha ricordato di non farlo, e quindi per questo sono grato a Checco Zalone. All'inizio del film è un pretesto per far scappare il protagonista dalle tasse che comunque deve pagare nonostante il fallimento, e scappa appunto in un, chiamiamolo paradiso fiscale, che poi è un villaggio turistico in Africa, e da lì parte il ritorno a casa, anche se lui non vuole, perché appunto questo villaggio è stato attaccato per varie vicissitudini. Checco Zalone, quindi l'italiano medio, fa il viaggio della speranza che molti migranti fanno per venire in Italia. E la cosa è molto bella perché noi vediamo l'italiano medio con i suoi pregiudizi, con questi migranti, con questi, con i suoi muri che si crea per la paura, diciamo, del diverso, che viene comunque alimentata anche dai telegiornali, da una certa ala politica. Quindi prendiamo questo, puff, italiano medio, lo togliamo dal suo muro di paure tipicamente italiane, che sono tipiche di questo periodo, e lo buttiamo in mezzo ai migranti e gli facciamo fare la traversata. Come idea è una figata, però a me ha spiazzato proprio che non c'entra nulla con quello che è il videoclip immigrato che doveva essere il trailer di Tolo Tolo. Poteva essere così se ci fosse stato un inizio della storia in cui Checco Zalone appunto si vedeva che aveva questa mentalità contro gli immigrati e poi veniva messo là. Invece non c'è nulla di tutto questo, c'è tutta una storia del personaggio molto confusa e qua si sente proprio l'assenza di un vero regista che era annunziante. Purtroppo il risultato è una storia che non è omogenea, che ha degli alti e bassi durante tutto il film. Adesso inizio a fare spoiler, nel senso che inizio a parlare anche di eventi che ci sono da metafilm in poi, quindi se non l'avete visto, se non volete che vi rovini la sorpresa, aspettate un attimo, andate a vedere il film e poi tornate qua sul video. Quindi io inizio a parlare tra 3, 2, 1. Si poteva per esempio mostrare il razzismo o il fascismo, come lo chiamano nel film, di Checco Zalone all'inizio del film con una versione cinematografica di quello che era il videoclip immigrato. Poi, sempre per varie vicissitudini eventuali, questo Checco Zalone va in Africa e fa la traversata. Invece questo non accade. Ci sono comunque degli sprazzi di razzismo, anzi di fascismo, come lo chiamano nel film, ma sono proprio degli sprazzi che stanno in una bolla. Checco Zalone a un certo punto ha degli attacchi di fascismo, come viene chiamato nel film, ovvero lui vede delle cose, sente delle cose che sono molto lontane dalla sua cultura, come per esempio si ferma il bus perché ha un guasto e tutti questi africani si mettono sull'erba a suonare, a passare il tempo invece che lamentarsi, suonare la loro musica tipica del luogo e dopo un po', Checco si stufa e sente un attimino come le voci e sono le voci di Benito Mussolini che fa uno dei suoi tanti discorsi razziali. E poi viene spiegato, più tardi, a tipo tre di questi episodi, nell'ultimo episodio in cui sente la voce di Benito Mussolini viene spiegato da un migrante, tra l'altro perché sono già sul barcone mentre accade, che questo è un attacco nel senso come se avesse un attacco di panico in realtà è un attacco di fascismo ed è anche un bel concetto quello di paragonare il fascismo anche se sembra più un attacco di razzismo in realtà perché il fascismo è anche altro ha come una malattia, ha un attacco di panico, una cosa del genere, è anche bello come concetto ma è spiegato di merda nel senso che nei primi momenti, negli episodi precedenti in cui ha questo attacco di panico, chiamiamolo così, inizia e finisce ma non si capisce che lui ha come una sorta di mancamento, una sorta di malattia, si capisce proprio che lui gli sta salendo il crimine perché non ne può più di essere tra questa gente e è giusto nel senso che è così che accade nella realtà però non serve a spiegare quello che poi tu vuoi spiegare magari avrebbe dovuto spiegarlo meglio se lo avesse spiegato meglio sarebbe stato uno dei punti forti del film, uno dei messaggi forti del film però si perde proprio in questo, in questa regia se così vogliamo, in questo modo, malo modo di raccontare il concetto perché appunto poi il concetto in sé del fascismo come malattia è anche carino. Ci sono dei concetti belli più profondi o meglio più profondi degli altri film non lo so perché semplicemente negli altri film c'era un messaggio che veniva raccontato anche passatemi il termine metaforicamente in tolo tolo la metafora non c'è quello che si vuole raccontare è quello che vediamo cioè il problema dei migranti il come i migranti vivono il viaggio della speranza verso le nostre terre e di come ci sia tutta una difficoltà che l'italiano medio interpretato da Checco Zalone nemmeno si sogna però appunto è forse proprio perché si toglie molta di questa metafora che c'era negli altri film il film appare un po' più un po' più grezzo un po' più basso rispetto agli altri in aggiunta c'è anche questa regia altalenante di Checco Zalone che fondamentalmente non ha altre prove registiche perché negli altri film c'era un ziante quindi un film di Zalone carino non il suo miglior lavoro e con un finale davvero che si poteva risparmiare perché è un non finale non perché ci sia un finale brutto ma perché ha voluto non lo so mettere il carico di briscola sul finale e ha toppato ciò nonostante appunto il personaggio dell'italiano medio ignorante che interpreta sempre Checco Zalone ci aiuta aiuta lo spettatore che si immedesima diciamo in Checco Zalone a capire molte cose che non capiamo neanche ci domandiamo perché Checco Zalone fa le domande tipiche che una persona che non sa la realtà come anch'io non è che io so la realtà di un migrante una persona che non sa la realtà della migranza può fare e questo film ci mostra diciamo un accenno di quella che è la realtà di questi viaggi della speranza questa cosa come concetto in sé è anche bella è proprio che è gestita un pochino maluccio ultime postille mi è piaciuto molto la scena quando la moglie una delle tante ex mogli di Checco Zalone gli telefona e lui è in pieno conflitto c'è una guerra una rivoluzione gli stanno sparando addosso e la moglie si lamenta di delle tipiche cose che di cui ci si lamenta qua in Italia ti mando l'avvocato ti faccio causa per danni morali tutte quelle cagate che sentiamo a forum mentre Checco sta davvero vivendo un conflitto di guerra e quindi mi piace come ha messo in scena questo altare di come in Africa in molti posti anche diciamo del Medio Oriente ci siano problemi reali problemi di guerra problemi di persone che ti sparano addosso ti fanno saltarinare la casa e di come noi in Italia per delle cazzate denunciamo la gente per danni morali eccetera eccetera mi è piaciuto come ha portato questa cosa in scena è una delle scene all'inizio del film e ultima cosa sempre che mi è piaciuta del film che ha quasi dei risvolti nel finale quasi fantoziani la scalata al potere di questo ragazzo pugliese che parte facendo un concorso come messo comunale quindi diventa un asiliario della polizia municipale poi diventa vigile urbano poi diventa capo della polizia salcazzo poi diventa un politico poi diventa ministro degli esteri poi diventa presidente del consiglio poi diventa presidente della commissione europea il tutto se all'inizio poteva avere quasi un senso perché passava del tempo mentre succedevano queste scalate al potere nel finale proprio nel giro di pochi giorni lui diventa presidente della commissione europea quindi per questo dico ha un ritmo quasi fantoziano la scalata al potere di questo ingegner grandissimo ladr Phil de Putt Lupe Mannar che diventa alla fine mi è piaciuto molto perché appunto critica anche una certa una certa realtà italiana fatemi sapere se avete notato che il cicogno nero con cui la cicogna strabica ha una relazione fatemi sapere se avete notato anche voi che è un riferimento al nero di Whatsapp che vi metto qua in descrizione così vi faccio una comparazione così vi rendete conto delle doti del cicognone nero e del motivo per cui la cicogna strabica lo andasse a trovare ogni volta bene con questo è tutto io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo nel prossimo video